Ciao ragazzi bentornati al vostro Denarman, siamo tornati in un nuovo video, ragazzi ci andiamo a fare una bella partita a Fall Guys, facciamo una partita di capodanno, allora ho sbloccato un nuovo vestitino, ci andiamo a fare una modalità Slime Survivor, facciamo un paio di partite e vediamo che succede, direi di buttarci subito, subito in gioco, vediamo un attimo, come si mette la questione, come potete vedere insomma ho il mio cappellino da invernale con le mie cuffiette paraorecchie, ok ragazzi ci andiamo a fare un bel roll out, tanto come al solito la nostra prima partita è di allenamento, quindi vediamo, ah vedi hanno montato i cannoni, adesso poi non ci dicessero che noi di moda non ce ne intendiamo, perché con questa giacca o questa sciarpetta, diciamo che comandiamo comodamente, ecco appunto, comodamente, guarda tu, guarda come va a finire, guarda come va a finire, ci mancavano solamente i cannoni questo quadro, già ci stanno 7000 persone, no no, buono, 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 dai, dai, mamma già siamo in sta brutta, brutta brutta, dai dai, bene ragazzi ci andiamo a fare, slime climb, questo quadro che non siamo mai riusciti a terminare, partiamo dalla prima fila, buttiamoci subito, mamma mia sta cuffietta paraorecchie penso che sia qualcosa di spettacolare, sì, la gente taglia, ma a me non mi prega niente, io mi faccio il mio bel viaggetto in comoda, prima classe, tranquillamente, vai vai, vai vai, destra-sinistra, e passa la paura, ci rimbalza in faccia, guarda se si è sposta a questo, facciamoci il nostro bel viaggio in prima classe, eh manco tanto perché, chiaramente, è finita male, è finita male, aspettate un attimo, aspettiamo il, la barra qua che si toglie, e dai che siamo saliti su, ora qua, ci aggiungiamo in maniera, e alzati, ci aggiungiamo in maniera pazzesca, bravo, bravissimo, e qua adesso, appunto, è che non, che non sbaglia, e sali, quindi, che facciamo, rimaniamo qua a vita, ok, eh ragazzi, dai, bravi, bravi, ok, qua, ci prendiamo questa parte di qui, ci facciamo tutto, ah, aia, aia, come non avessimo fatto niente praticamente, piano, 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 e dai, e dai che saliamo su, cerchiamo di, ok, no, 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 no partita allenamento ci può stare ci può stare benissimo ragazzi siamo ritornati sul main show quindi ci andiamo a fare il diciamo lo scenario principale ritorniamo a farci questo bel quadro invernale questo quadro è veramente veramente figo ragazzi quando mi piace tantissimo più sicuramente di quello che viene dopo dove perdo una volta sia l'altra pure ma adesso sicuramente spero ci arriveremo insomma potremo smentirci intanto andiamo a farci questa salitina tra palle di neve noi abbiamo il nostro giacchetto la nostra sciarpina nuova quindi andiamo a comandare tranquillamente proprio un bel destro non ci manca mai destra un bocca ti fa sempre bene ok o qua ci facciamo una bella volata bravissimo ci facciamo la parte sinistra perché comunque più tranquilla adesso fa ragazzi facciamo questa cosa così bravo togliete proprio no 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 bravo bravissimo e ciao dai dai andiamo avanti ma sono diventato esperto di questo quadro ottimismo a colazione ragazzi e abbiamo hanno cambiato la disposizione di quadri ora randomica invece fino a qualche giorno fa i quadri invernali erano consecutivi quindi ottimo perché secondo quadro era abbastanza fastidioso ora andiamo se mi fate prendere un uovo magari per me niente non mi lasciano un uovo e spostate un po niente vabbè guarda non c'è un uovo per me ok vabbè me lo dai bravo eh sicuramente questo quadro è bellissimo mi piace tanto eh abbiamo scoperto dai spostate su andiamo subito alla casa base eh dai dai bravo bravissimi no 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 che fai oh ma non c'è un uovo per me niente ma non c'è un uovo per me niente broccano un po' eh non blocca meno vabbè comunque insieme normale bravo non c'è un prodotto per niente proprio bravissimo no 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 adesso ci manco qua in difesa ragazzi ecco bella difesa e fermate un po' Vai, valla a salvare Vabbè prendiamo questo va Ce lo portiamo dietro Così uno ce l'ha tolto E a quanto pare Due ne mettiamo Buono, buono Dai, dai, guarda se si è sposta Vabbè non sei normale comunque eh Non sei proprio normale Eh, abbiamo il compagno di squadra che non è Un po' sveglio perché Voglio dire E dai, andiamo avanti Ragazzi, andiamo avanti Eh, il nostro bel tabellone Gente che Velocemente fa a casa E noi rimaniamo tra i 26 qualificati Questa ragazzi è un'altra bella Catta da pelare perché questo è un quadro figo Ma molto molto complicato Perché Tanti di voi lo conosceranno Praticamente bisogna mettere questi Pilastri In scala In modo da riuscire a Saltare dalla parte opposta Praticamente già tutti stanno di là Io sono ancora qua Ovviamente Ok Dai Dai, 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 dai Bravo Bravissimo Bravo Bravo No, 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 no Guarda come va a finire Guarda come va a finire Non c'è bisogno che spostate Che c'è Facciamo Comunque Bravo Così mi piaci Bravissimo E qui L'aspirazione Complication Ah, quello ce l'ha fatta Ce l'ha fatta Là ce l'ha di fare Lo stesso Guarda, guarda che ce la fanno No Ma hai fatto a facciare quello Ce la dobbiamo fare pure noi Pazza, sta arrivando troppa gente però, eh Dai Dai, guarda quelli che ce la fanno Guarda quelli che ce la fanno Dai Bravissimo Mamma mia ragazzi E ce l'abbiamo fatta anche noi Andiamo avanti, dai Te pareva Un bel quadro di quelli proprio Che a me mi riesce benissimo Di squadra Preghiamo di essere capitati nella squadra giusta Perché se no finisce molto male Io vedo subito un cerchio là Cerco di andare Ma credo che questo lo faccia prima di me, appunto Eh, sempre a cragnate Le faccio io Assurdo Sempre a capocciate Bravo Bravissimo Dai compagno Compagno di squadra No Me l'ha preso prima Me l'ha preso prima Andiamo qua Andiamo qua Cambiamo un po' Niente Vabbè Oh, buono 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 questo d'oro Buonissimo ragazzi Buonissimo Abbiamo preso Quello che ci serviva Di prendere Sì, ciao Eh Si riescono Magari Bravissimo Preso Dai Buono Dai che siamo abbastanza in vantaggio ragazzi Ah Niente Ci hanno Fregato All'ultimo Ah pure qua All'ultimo Niente Siamo già tutti lontani Sto cercando di vedere Dalle ombre che passano sopra Eccolo lì Eccolo lì Dai che arrivo prima Buono Anzi siamo Ripeto Un buon vantaggio Quindi dovremmo Se tutto va bene Riuscire ad andare oltre Anche a questo Mi vado a prendere questo qua Io quasi quasi Allora mi devi spiegare Come ha fatto a prenderlo lui Che sono entrato prima io Buon gioco mi devi spiegare Come ha fatto a prenderlo prima lui Eh Sono preso in bel 5 Ragazzi Attenzione Attenzione ragazzi Molta attenzione Dai Buono Ci abbiamo comunque fatta I gialli ci hanno recuperato male Ragazzi La finale La finale Qui bisogna salire qua sopra E andare a prendersi La corona Comunque vada È stata una grande partita Quindi Noi siamo soddisfatti lo stesso Del nostro percorso Perché abbiamo giocato bene Non abbiamo Abbiamo sbagliato Quasi Niente Ecco a parte questo Non abbiamo sbagliato quasi niente Ce la siamo giocata Fino all'ultimo Quindi Proviamo comunque Ad andare sopra E A prendere la corona Ma vedo che c'è gente Che sta Bella su Vedo che Ecco appunto Bell'assist Gli ha fatto il coso qui Non credo che c'ha Eccola là Eh vabbè ragazzi L'avevo detto Va bene Dai è andata bene Comunque così È andata bene Comunque così Ragazzi Direi di andarci a fare L'ultima partita Di questa giornata Di questo video E E basta Vediamo che succede Comunque L'ultima Quella che abbiamo Appena concluso Appena terminato Possiamo dire che Non è andata male Anzi Andava benissimo Poi purtroppo Arrivi in finale Ci stanno Comunque Altri giocatori Ci sta C'è una corona Prima che arriva su La cosa la prende Cioè poco da fare Quindi comunque Ci sta Ci sta Siamo stati sfortunati Ma La partita comunque È andata benissimo E che ripartiamo sempre Da questo quadro Abbastanza Ormai ferrati Su questo Ora Se perdiamo poi qua Che Insomma Sicuramente Sfortuna Voglio dire La regola Che conferma L'eccezione Che conferma La regola Però Guarda qua Guarda che ci sta Guarda che ci sta Sì Ma qua Ne dovevano Fa fuori Secondo me Qui non ne dovevano Passa a 43 Ne dovevano Passa a 20 Perché Almeno Ti toglie una fetta Oh Un bel destraccio In faccia Via via Andiamo avanti Qua Guardiamocela Più nel fondo Dai Ormai Siamo Su questo Diciamo Che siamo Abbastanza Ferrati Ecco Ok Vai Buttiamoci Di qua Uno E uno Due Dai Tutto pronto Ce ne va a fare Pure Questa roll out Che C'è qualcosa Che non mi torna Ma adesso Così Sì Ah no Ok niente Scusate Mi sembravano troppe Poche Le sbarre Però Effettivamente Poi Si aprono Dopo Ok Sali Sali Passate qua Per roll out Per roll out Quando sei così Tanti Uno Eccolo Eccolo Ragazzi Purtroppo è andata così Non me l'aspettavo Non me l'aspettavo di cadere così Vabbè Abbiamo dato tutto alla partita di prima Diciamo così Dai Prendiamoci questa attenuante Una bella coroncina Ok ragazzi Io spero Che questa partita Vi sia piaciuta Che vi siate divertiti Se così fosse Mi raccomando Iscrivetevi Condividete il video Un bel like Spero che vi sia piaciuto Il vestito Del nostro nuovo personaggio Con questo Vi Intanto vi do Buon anno A tutti quanti Vi invito Ripeto A iscrivermi Al mio canale A iscrivervi Ai miei canali social Ci vediamo Al prossimo video Del vostro Tenarman Un saluto Ciao